Questo progetto editoriale sui disegni Michelucci secondo me è importante anche perché contiene gli ecchi di uno dei testi, come direi ne abbiamo parlato spesso, secondo me più significativi da parte di Giovanni Michelucci che è quello sulla città variabile, il testo, diciamo il discorso di Michelucci sulla città variabile. I disegni infatti sono, come dicevo prima, particolarmente attuali perché ci offrono degli spunti di riflessione per discutere da una prospettiva della creatività, la prospettiva della creatività che oggi diventa sempre di più lo strumento, probabilmente per superare una crisi che non può essere superata con gli strumenti standard. Sappiamo che lo status quo non è più un'opzione, ma soprattutto una prospettiva organica e quasi biologica dell'architettura, una prospettiva che sembrava superato, dimenticata e che diventa oggi invece nuovamente importante. E possiamo osservare dai disegni come questa posizione emerge chiaramente in modo anticipatorio proprio da parte di Michelucci. Un altro aspetto importante secondo me è che questo tema, il rapporto quindi tra natura, tra biologia, architettura, è al centro, sappiamo, delle discussioni che riguardano il superamento delle crisi ambientali. Ma nel lavoro di Michelucci in questi disegni notiamo che emerge anche un altro aspetto altrettanto importante in questo momento, cioè la componente sociale, ossia la convergenza tra la questione ambientale e la questione sociale. E anche in questo caso non posso che sorprendermi positivamente, visto che proprio quest'anno, anzi quest'anno a dicembre, è uscito nel 2021 l'ultimo report, l'ultimo inequality report, che dice appunto che esiste una correlazione molto precisa tra giustizia sociale e sostenibilità. Michelucci attraversa tutte le scale dell'attività attraverso questi disegni, con questi disegni, faccio un esempio, ci sono i dieci disegni radicali di città del 1985, per esempio, che sfidano la semplificazione binaria della realtà, che sono all'origine della pianificazione deterministica, che era molto in voga in quegli anni. Quindi anche in questo caso si può dire che Michelucci si muovesse in un ambito quasi radicale dell'architettura. Altri disegni che certamente oggi, che all'epoca, potevano pare inusuali, ma chiaramente risultano importantissimi oggi, sono quelli dei confini della città, in cui vediamo gli assi ordinatori dei palenzesi urbani, che sono assorbiti da un tessuto fibroso e quasi dendritico. E che noi ci immaginiamo, alla luce dei suoi discorsi sulla città variabile, come multifunzionale e appunto variabile. Vorrei concludere citando un passaggio della città variabile, che secondo me è molto importante proprio perché va ad analizzare proprio gli aspetti, come dire, la visione storica di Michelucci, una visione storica che non è mai storicista, però. In questo passaggio Michelucci dice, è vero che la conoscenza del passato, come afferma acutamente Mark Bloch, anche in questo caso citare Bloch come storico, mi pare un aspetto molto importante, appunto lo storico, che prima di altri ha messo al centro l'uomo comune, gli interessi, diciamo, delle persone, più che la storia delle figure importanti, degli eventi importanti della storia, mi pare un segnale abbastanza significativo. Insomma, come afferma acutamente Mark Bloch, è una cosa che si trasforma e si perfeziona incessantemente. La conoscenza del presente è ancora più soggetta ad un continuo perfezionamento e ad un'incessante trasformazione, e quindi la sua interpretazione e valutazione è proporzionata e limitata alla possibilità del giudizio consentita dalle esperienze raggiunte di chi valuta, nel momento stesso in cui egli valuta, cosicché talora una cosa che gli sembrava negativa può apparire poi al nostro giudizio.